Matching, Share & Grow Un percorso innovativo e concreto per lo sviluppo di piccole, medie e grandi imprese. Una piattaforma per la crescita e la condivisione del business. Attraverso incontri ed eventi. Creando una solida rete di imprese, istituzioni e professionisti. Matching unisce e favorisce l'incontro tra diverse competenze e professionalità in differenti mercati, anche internazionali, tra diverse dimensioni di impresa, dalle grandi aziende alle start-up. La novità 2014, un percorso annuale in quattro fasi che vede sempre l'impresa protagonista. Matching Welcome Un nuovo modo di vivere matching con tanti strumenti, anche digitali, per dialogare tra imprese su necessità, attese e obiettivi. Matching Training Una fase di preparazione accurata per individuare punti di forza e valori distintivi, pronti da spendere sul mercato per la fondamentale occasione di novembre. Matching Live Il grande evento a fiera a Romilano, arrivato alla decima edizione. In uno spazio arena, ogni impresa incontra i leader di settore e studia le best practice. Può fare networking con altre imprese attraverso workshop, tavoli di lavoro, Momenti informali Per massimizzare la diffusione di conoscenze e opportunità. Matching Live, con le sue 1.600 imprese intervenute nel 2013 e oltre 45.000 incontri di business, è ad oggi l'evento dedicato all'impresa con il miglior rapporto costo-contatto. E dopo l'evento, Matching Follow Up per continuare il confronto su una piattaforma digitale dedicata, rendendo Matching una community attiva tutto l'anno. Partecipa a Matching con la tua azienda ed entra nell'Enterprise Community ideata per creare opportunità sempre più importanti per il tuo business. Matching. Share & Grow.